Il compleanno del Papa Francesco, paghiamo il tango per lui come regalo. Che messaggio vuoi dare al Santo Padre? Che la vita è bella, lunga vita, lunga vita. E di mantenersi così. Che la vita è bella, lunga vita, lunga vita. Che la vita è bella. Che la vita è bella.